Costa Toscana Costa Toscana è questo il nuovo brand promosso dalla Regione per la promozione turistica di tutta la fascia costiera in ogni periodo dell'anno e senza distinzioni di confini. Stavolta quindi enti, operatori e pubbliche amministrazioni si sono messi insieme per il rilancio di un'identità comune, quella della Toscana bagnata dal mare. Il prodotto Costa non può più essere visto unicamente come le occasioni di ospitalità sul lungomare del territorio toscano, ma è un prodotto molto più complesso, fatto del nostro arcipelago, fatto dell'entroterra, fatto di quella offerta assolutamente unica che l'altotirreno nel suo insieme può rappresentare. La Toscana è appunto baricentrico, centrale di chi si muove per mare. Tesori di mare, tesori di terra, è questo il payoff scelto per il nuovo logo che trova anche una declinazione specifica per la promozione dell'arcipelago con il brand Isole Toscana. E così, elaborata l'immagine, scatta la promozione non solo accordi con compagniere come Ryanair per attirare i visitatori dall'estero, ma anche campagne pubblicitarie come quella che apparirà su National Geographic e partecipazione a fiare internazionale a partire da Inghilterra, Russia e Germania. Costa di Toscana non nasce per superare le singole specificità e le singole qualità dei nostri territori. Penso alla Maremma, penso alla Versilia, penso alle terre di Pisa, le Alpi Apuane. È la somma di queste bellezze che noi vogliamo trasferire in giro per il mondo. Lo vogliamo fare con un unico brand che ci tenga insieme tutti. Oggi, se andiamo sul web, una delle parole più ricercate dai turisti è proprio Toscana. E allora noi, mettendoci la parola Costa, vogliamo fare in modo che quei turisti, che fino ad oggi vengono a visitare solamente Firenze o il centro della Toscana, possano trasferirsi. Ad oggi solo il 10% dei turisti che visitano Firenze raggiungono poi anche il mare. Ecco, Costa Toscana nasce proprio per invertire questa tendenza alla realizzazione di questo nuovo brand non rappresenta infatti la fine di un percorso, bensì l'inizio di un nuovo modo di promuovere il territorio in giro per il mondo con pacchetti dedicati. Particolare attenzione sarà rivolta al cibo, al wedding, ai parchi nazionali e al turismo lento. Il dato di fatto che rende incredibilmente competitiva la Costa Toscana di essere la costa, la spiaggia, la vacanza nel balneare con la Toscana intorno. In sé questa affermazione nasconde vari artifici retorici dietro, nel senso che chi fa una vacanza nella nostra regione al mare la fa sapendo di avere la Toscana, le bellezze del paesaggio, della campagna, le Alpi Apuane piuttosto che la Maremma, a pochissimi chilometri e diventano se stesse parte della vacanza al mare. Quindi chi sceglie di fare una vacanza sulla costa in Toscana lo fa perché c'è la Toscana intorno e da questo punto di vista insistere su un logo che riconduca immediatamente alla Toscana si mette nelle condizioni di essere più competitivi.